Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare del bagno, ogni quanto lo possiamo fare e di come fare i primi bagnetti. Per quanto riguarda il bagno allora vi ho consigliato di non farlo diciamo a intervalli più piccoli di 20 21 giorni, io consiglio una volta al mese per permettere diciamo al manto alla pelle di rigenerare il giusto film lipidico, quindi va benissimo una volta al mese per quanto riguarda il primo bagnetto facciamolo quando il cucciolo ha ultimato i primi vaccini, quindi verso i 3-4 mesi. Come poterlo fare in sicurezza anche a casa? Io vi consiglio di allestire sul fondo della vasca dal bagno o sul fondo diciamo del piatto doccia un asciugamano, in modo che il cucciolo non scivoli, si senta più tranquillo, si sente più sicuro. Poi cominciamo con molta calma, ovviamente acqua tiepida e uno shampoo adatto al loro mantello. Vi ricordo che il pH della pelle del cane è diverso dal nostro, quindi dobbiamo assolutamente utilizzare dei prodotti specifici, quindi molta calma, vi ricordo molta tranquillità e un bel asciugamano sul fondo per evitare che il cucciolo scivoli. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.